Per far fronte alle difficoltà che l'emergenza sanitaria ha determinato per le famiglie e le imprese, l'amministrazione comunale ha deciso il rinvio delle scadenze tari per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31 luglio 2020, al 30 settembre e al 15 dicembre, con un acconto per la prima e seconda rata pari al 65% di quanto dovuto alle tariffe 2019 e un conguaglio alle tariffe 2020. Per tale motivo gli avvisi di pagamento verranno emessi nei primi giorni del prossimo mese di luglio. E sempre sul fronte economico il Comune di Cremona ha individuato una serie di interventi sui quali investire i contributi della Regione. Tra questi più significativi riguardano la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi alla quale sono stati destinati 325.000 euro, la manutenzione straordinaria della piscina olimpionica pari a 90.000 euro, mentre altri 80.000 euro serviranno per realizzare e ampliare le reti free wifi e 90.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica. Il resto sarà destinato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle scuole elementari bisolati, delle medie Virgilio e Anna Frank, agli alloggi popolari, le piste ciclabili e il centro culturale Santa Maria della Pietà. Grazie per la visione!